Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino ci sono un chilometro di coda in direzione Livorno e code in direzione Firenze. Si segnalano anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e due chilometri di coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna incidente tra Baldarno e Incisa Reggello. Sempre verso Bologna corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!